E' ormai ufficiale l'addio dell'ex patron del Francavilla Calcio De Vincentis, però Sindaco Luciani voi state lavorando e non da oggi per assicurare un futuro al calcio giallorosso, una nuova compagine societaria in attesa di sapere se il prossimo anno il Francavilla giocherà in Serie D come molti tifosi si augurano. Ricordo il mio primo discorso da presidente del Francavilla Calcio perché prima di essere sindaco sono stato presidente del Francavilla Calcio, il primo discorso che feci all'interno degli spogliatoi ai ragazzi è questo, dissi signori i presidenti passano, gli allenatori passano, i calciatori cambiano, c'è una cosa che resta, il Francavilla Calcio che esiste fin dal 1927 con diverse fortune, alterne fortune ma esiste da tanti tanti anni e resterà. Ecco, ripeto la stessa cosa, noi stiamo lavorando affinché il Francavilla possa iscriversi e iscriversi nella serie più alta alla quale avrebbe diritto perché oggi fare una domanda di ripescaggio in Serie D è cosa fattibile, possibile e quindi stiamo però cercando le forze economiche che ci consentano di fare questo passo. Lei non ci dirà ovviamente i nomi però ci può dire che ci sono degli imprenditori che avrebbero manifestato l'interesse ad entrare nel Francavilla Calcio? Imprenditori o no ci sono sicuramente persone che ci stanno approcciando in questi giorni, si susseguono una sorta di consultazioni, è ovvio che l'ultima parola poi ce l'avrà sempre il presidente De Vincentis che ha ancora in mano il pallino societario, però lui si è dichiarato disponibile a favorire una cessione senza grossi traumi e quindi io sto lavorando per trovare gli interlocutori adatti. Grazie 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 Grazie